Certo non doveva essere assolutamente facile per Carlo Goldoni far passare le tante innovazioni che la sua riforma del teatro prevedeva, per cui dobbiamo pensare che le fasi della sua riforma del teatro non furono così lineari come lui stesso ci racconta nelle memoire, ma probabilmente c'erano state delle fasi molto importanti in cui Goldoni è riuscito a portare avanti le sue idee e altri momenti della sua vita in cui ha dovuto fare un po' di marcia indietro, soprattutto perché se veramente bisognava unire il mondo al teatro come lui stesso appunto intendeva fare, se il teatro ha delle sue leggi, delle sue regole ben precise, il mondo del 700 a cui Goldoni guarda, e cioè il mondo della città di Venezia, era in quel periodo in grandissimo fermento, in grande evoluzione, per cui dobbiamo ipotizzare che se Goldoni, come ha fatto, guardava al mondo che lo circondava per trovare quei caratteri da rappresentare nelle sue commedie, dobbiamo ipotizzare che Goldoni ha avuto una sorta di evoluzione nella sua rappresentazione dei caratteri, perché il mondo si evolveva nel frattempo, nel frattempo che la riforma prendeva corpo, tante cose succedevano a Venezia, da una parte una classe nobiliare sempre più chiusa all'interno delle sue regole fisse, dall'altra fuori da questi palazzi nobiliari un mondo in grandissimo fermento dove la borghesia occupava sempre più posizioni importanti e quindi fette di potere, e reclamava naturalmente i diritti della sua classe, fino a quando naturalmente la borghesia non è diventata più, come diremmo noi oggi, una classe di opposizione, ma una classe di governo, probabilmente cadendo negli stessi errori della nobiltà. Ecco, questo è il mondo in continua evoluzione che Goldoni ha cercato di rappresentare all'interno delle sue commedie. Proviamo a dividere le fasi del teatro goldoniano in una serie appunto di momenti. Il primo momento è quello che va dal 1738 al 1753. Goldoni lavora con il teatro San Giovanni Crisostomo, ma anche col teatro Sant'Angelo, e diciamo è la fase in cui Goldoni crede nella forza del mercante. Ho deciso di mettere tra virgolette il termine mercante perché Goldoni non lo intende soltanto come colui che svolge il ruolo di mercante nella società, ma pensa a una etica mercantile che dovrebbero avere tutti quanti, non soltanto chi lo fa di professione, il mercante. Ed ecco infatti le due classi che Goldoni guarda, vede, trova appunto per i calli di Venezia. Da una parte troviamo il mercante. A Goldoni, che è appunto di origine borghese, a Goldoni piace la puntualità tipica del mercante, il suo rispetto degli impegni, perché ovviamente gli impegni sono denaro e quindi il rispetto dell'impegno vuol dire il rispetto, la possibilità di ricavare dei soldi. A Goldoni piace quel buonsenso che guida il mercante nei suoi affari e quindi nelle cose di tutti i giorni. Piace la concretezza del fare mercantile, l'avere a che fare con fatti e non soltanto con idee. Accarezza l'idea di un attaccamento alla famiglia come etica del mercante, mercante che è forte, bravo e capace negli affari, ma è un mercante che vuole gestire anche con parsimonia la propria famiglia e quindi crede nella famiglia, scommette in questa famiglia che lui cerca di indirizzare attraverso l'etica mercantile e cioè attraverso la laboriosità, la laboriosità, il lavoro, il costante lavoro, questo lavoro che paga nel senso proprio specifico del termine, cioè porta denaro alla famiglia e questa etica che deve essere tramandata di padre in figlio perché la famiglia possa crescere e possa essere tutta più unita attorno a questa etica del lavoro e nello stesso tempo l'onorabilità perché l'onorabilità è il frutto della laboriosità, quindi una famiglia che lavora, una famiglia che si impegna, che ha come obiettivo appunto, quindi il mercante, che ha come obiettivo quello del lavoro per il lavoro, il lavoro per il benessere personale ma anche per il benessere della propria famiglia non può che portare anche onore alla famiglia stessa, quindi una sorta di riconoscimento sociale della famiglia del mercante e quindi ovviamente della classe borghese. Dall'altra parte quali erano i difetti che Goldoni ravvisava nella nobiltà, era superba, prepotente, oziosa, impegnata a non far niente, parassita, non produceva nulla, consumava soltanto, anzi dissipava quel patrimonio che aveva e era attaccata a titoli vuoti, marchese, conte, che non avevano nessuna spendibilità, non avevano, erano perso loro credibilità e Goldoni ci rappresenta figure di nobili attaccati clamorosamente a questi titoli che non servivano a niente se non ad avere ancora un briciolo di potere, questi titoli che appunto non dicevano niente del nobile, nel senso che erano soltanto delle etichette, etichette che di lì a poco sarebbero crollate sotto il vento furioso della rivoluzione francese e quindi questo Goldoni non lo poteva sapere, una nobiltà che però andava tronfia del suo potere e non si rendeva conto che invece il vero potere ormai, cioè quello dei soldi, era in mano ai borghesi. E allora la domanda potrebbe essere spontanea. Quindi Goldoni è un rivoluzionario? No, Goldoni non è un rivoluzionario, la sua origine borghese non lo porta a essere rivoluzionario. Ci piace commentare questa affermazione usando le parole di Franco Fido. Goldoni voleva soltanto smuovere i nobili dall'inerzia, riportarli alla dignità di una vita attiva, ricordando loro la funzione sociale degli antenati, cioè il ruolo che la nobiltà ha sempre avuto negli anni precedenti. Quindi no, Goldoni non è un rivoluzionario, Goldoni non voleva la lotta di classe. Goldoni voleva che la borghesia potesse dare il proprio contributo perché era capace di dare il contributo alla società, così come un tempo era stata capace la nobiltà e che ora invece non è più capace. Per cui non ci sono idee rivoluzionarie nella riflessione goldoniana, ci sono soltanto le idee di un borghese prudente che ritiene che la classe in questa fase naturalmente del periodo di Goldoni, in questa fase appunto di riflessione di Goldoni, che la classe trainante della società può essere la classe borghese, perché ha tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto precedentemente, che sono caratteristiche positive, ma che sono positive perché la nobiltà ha tutte caratteristiche negative. Ecco, è quasi un atto di accusa alla nobiltà, che si è lasciata andare e ha permesso naturalmente alla borghesia di occupare quella zona, quella posizione sociale che la nobiltà ancora mantiene, ma soltanto formalmente all'interno della società. Quindi Goldoni non è assolutamente un rivoluzionario. Goldoni è un convinto assertore dei valori etici del mercante e del borghese, dell'etica mercantile che si può applicare anche a una nobiltà che deve cambiare pelle, deve cambiare profondamente e deve diventare una nobiltà che abbraccia le stesse caratteristiche che ha il mercante. Di questo periodo ricordiamo alcune delle commedie più famose. Abbiamo già parlato del Momolo Cortesan, la prima commedia in cui c'è la parte interamente scritta del protagonista, ma a noi ora interessano queste commedie non da un punto di vista del teatro, cioè tecnica, ma ci interessa dal punto di vista dei temi trattati. Allora il tema della famiglia è un tema fortemente ricorrente in queste commedie, dalla putta onorata alla buona moglie, dal punto di vista della donna naturalmente, ma anche dal punto di vista del marito, nonché mercante, con la famiglia dell'antiquario straordinaria e del padre di famiglia dello stesso anno della precedente. E poi uno dei grandi capolavori, se non il capolavoro della produzione goldoniana, la locandiera, 1752, questa mirandolina che ha così fatto innamorare tante persone, tanti lettori, questa donna che presenta quelle qualità positive, genuine, schiette che Goldoni pensava dovesse reincarnare il mercante. Nel 1753 comincia la seconda fase della riforma goldoniana. Questa fase è una fase relativamente breve, finisce nel 58 e vede Goldoni impegnato nel primo momento della sua partecipazione come capocomico a San Luca. Questa seconda fase è caratterizzata da una sorta di misantropia e un'attenzione al popolo. Vediamo di spiegare un pochettino meglio questi due concetti. È sicuramente un momento di crisi profonda. Non sempre le innovazioni di Goldoni trovano riscontro nel successo del pubblico e dal momento che gli impresari devono riempire le sale e il pubblico ancora non è preparato a una riforma così impegnativa del teatro. Goldoni è costretto un po' a fare marcia indietro, almeno su alcuni punti. Ed ecco che le commedie di questo periodo risentono una crisi sicuramente personale di Goldoni, ma anche una crisi più in generale della borghesia veneziana, o almeno se non proprio una crisi, l'avvisaglia di una crisi che poi troverà riscontro nelle commedie della terza fase. Gli eroi, gli attori, le persone di Goldoni, che Goldoni appunto mette in scena, sono caratterizzate da una generale misantropia, un atteggiamento che quindi li porta ad essere diffidenti verso le altre persone e nello stesso tempo li porta a chiudersi sempre più in se stessi. Però dall'altra parte Goldoni comincia, ma siamo solo all'inizio, comincia a guardare oltre la classe sociale della borghesia e comincia a studiare il popolo, a ravvisare nel popolo alcune delle caratteristiche che aveva trovato e che non trova più nella borghesia veneziana. E così passiamo naturalmente alla terza fase, quella che va dal 59 al 62. Goldoni è ancora impegnato presso il teatro di San Luca e qui c'è effettivamente ancora ben presente un'atmosfera di crisi e un'attenzione verso il popolo, ma questa crisi e questa attenzione verso il popolo si concretizza ancora di più, in una maniera quindi più specifica. Il mercante della terza fase, dei Goldoni, è un mercante appunto che si chiude in se stesso, che è caratterizzata una sorta di inerzia, tende in tutti i modi a difendere i propri interessi, il proprio tornaconto e tende in tutti i modi ad affermare la propria visione della vita sulle altre classi sociali. Cioè un mercante che praticamente sta facendo una fase di involuzione, si sta avvicinando a quella nobiltà o almeno a quei difetti della nobiltà che Goldoni aveva riscontrato essere presenti nella nobiltà veneziana di qualche decennio prima. Ed ecco che quindi Goldoni, come ho detto, guarda al di là. Ormai la crisi del mercante è così eclatante, non è soltanto un'intuizione, ma è una amara constatazione per il borghese Goldoni e Goldoni così è portato a guardare e vedere se c'è qualcosa al di là del mercante. Deluso dalla nobiltà, deluso dal mercante, ora si rivolge al popolo e scopre nel popolo quell'attaccamento alla famiglia, quella laboriosità, quella onorabilità, l'atteggiamento del popolo che può anche avere pochi soldi ma ci tiene al proprio onore e quella schiettezza, cioè tutte quelle caratteristiche che aveva cercato e trovato nel mercante della prima fase e che ora Goldoni ritiene che vengano incarnate più dal popolo. In questa fase non mancano i capolavori. Del 1759 sono gli Innamorati, del 60 i Rustichi, del 61 la Trilogia della Villeggiatura, del 62 il Sior Todero Brontolon e del 62 le Baruffe Chiozzotte. Quindi il teatro di Goldoni ancora ci sforna una serie di grandi capolavori, ma sono tutti personaggi un po' burberi, un po' rusteghi, un po' brontoloni, come il nostro Sior Todero, che criticano appunto questa società e bofonchiano, cercano di trovare un senso alle cose che fanno ma vedono solo una crisi imbarazzante attorno a loro. Ed ecco che quella attenzione che Goldoni aveva cominciato ad avere nella bottega del caffè, nel campiello, ecco che diventa un'attenzione molto importante verso il popolo nelle Baruffe Chiozzotte, in quest'opera appunto in cui Goldoni si immerge proprio nel mercato del pesce del pesce di Chioggia. Il 1762 è anche l'anno in rappresentazione di una commedia molto triste o almeno malinconica, un po' una contraddizione, quasi un ossimoro attribuire a una commedia l'aggettivo di malinconica, però è questa una delle ultime serie di Carnovale, in cui il protagonista, Anzoletto, è in partenza per la Russia. Commedia sicuramente fortemente autobiografica, quasi un meta teatrale, potremmo anche dire, che anticipa o almeno mette in scena una decisione che probabilmente Goldoni aveva già preso, e cioè quella di andare a Parigi, e cioè quella di lasciare Venezia. Grazie. Grazie.